300 bambini dell'elementaria scuola di alimentazione, non in aula ma in piazza, per la precisione in piazza Duomo ad Altamura, dove il GAL Terre di Murgia ha organizzato una mattinata con Fabio Denunzio, l'inviato di striscia ma soprattutto in questo caso l'autore di Sotto il segno della bilancia, libro che a breve uscirà con un'edizione aggiornata. Prima quando i bambini avevano fame la mamma prendeva una fetta di pane, destrofinava del pomodoro, un goccio di olio extravergine d'oliva e ti dava la merenda, oggi il bambino ha fame e la mamma in 5 secondi scarta una merendina e le la dà, ora bisogna incominciare a fare un passo indietro e poi l'altra cosa che dico soprattutto ai bambini in questo caso nelle mie presentazioni, mi raccomando quando vedete un bambino cicciotto, una bambina cicciotta non va preso in giro, è un bambino in qualsiasi caso che non sta bene, bisogna fargli fare le stesse cose che facciamo noi, l'unica cosa è che il bambino cicciotto ha dei movimenti leggermente più lenti. La sana alimentazione va di pari passo nei fatti con la valorizzazione dei prodotti di questa terra. Questo è proprio l'obiettivo che come agenzia di sviluppo locale ci siamo posti, siamo ambasciatori del mangiare bene, del mangiare sano, della promozione dei prodotti, di quelli rintracciabili. Itiner a Murgia andrà avanti anche nei prossimi weekend per far conoscere i prodotti della nostra terra e per spiegare che oltre a essere buoni fanno bene.